Si è conclusa la formazione continua che si è tenuta a Cadanzaro da parte del Centro Sconto Serra del Mare. Ringraziamo tutte le professioniste che hanno dato il loro contributo, questo perché sempre di più cerchiamo di mettere, di attuare tutto quello che è presente sullo statuto dell'associazione, quello di aprirsi ad un gioco di rete con le associazioni del territorio e soprattutto con gli esperti. La formazione è un aspetto fondamentale per ogni operatore dell'antiviolenza che entra in contatto con ogni persona che ha bisogno, questo perché chi ti chiede aiuto deve avere davanti una persona che è capace di ascoltare ma soprattutto una persona competente.